buongiorno a tutti allora nella notte nella notte farò il recupero si fa per dire comunque vi racconterò lo slalom gigante di cron platz femminile adesso visto la prima manche a breve dovrò iniziare a fare interlive scusate ogni tanto c'è il bronco di riace che viene fuori e poi dopo il pocherino con gli amici soliti 20 euro a testa una sciocchezzuola settimana scorso perso l'enorme cifra di un euro e venti una cifra enorme giusto per farvi capire il livello infimo e basso con cui si gioca allegramente come dovrebbe sempre essere quando rientrerò guarderò appunto la seconda manche e vedrò come è andata e ve la racconterò poi della giornata di venerdì proseguirò con lo sci ma adesso due notiziole veloci veloce da leccarsi le orecchie di call news la prima come al solito è sempre la sinistra con la destra che litigano eccetera per le cose storiche questa è una notizia che arriva da brindisi sempre dell'ottobre del 2020 quindi un litigio ormai di un mese un anno e tre e tre mesi fa più o meno brindisi litigi per la fontana dedicata a benito bussolini il comune la restaura e lampi insorge la fontana è stata riaccesa il 16 ottobre 2020 ma a qualcuno non è piaciuto la coincidenza della data il 16 ottobre del 1943 ricorre il rastrellamento e la deportazione di 1252 ebrei romani da parte dei tedeschi in mano verde e nero il disegno dell'aquila in alto al centro e lo stemma di brindisi a sinistra e quello della provincia a destra è il simbolo di questa fontana sulla facciata al nome del re vittorio emanuele e del duce benito bussolini a brindisi torna appunto a risplendere la fontana dell'impero monumento del 1940 che si affaccia sul lungomare e sull'antico quartiere le sciabiche a luglio 2020 sono finiti i lavori di restauro realizzati dall'amministrazione comunale grazie ad un progetto dell'esco-bissario straordinario santi giuffè la fontana è stata riaccesa come diceva il 16 ottobre scorso con tanto di inaugurazione la presenza del sindaco riccardo rossi e di alcuni rappresentanti della sua giunta della sua amministrazione di centro-sinistra quindi farei notare che la giunta e l'amministrazione sono di centro-sinistra ogni tanto c'è anche al centro-sinistra che c'è un minimo di buon senso una serie di comunicati stampa ha annunciato il gran ritorno l'enfasi della ristrutturazione del monumento dell'epoca fascista ha creato diverse polemiche in città e a qualcuno non è piaciuta la coincidenza della data del 16 ottobre del 1943 quando c'è stato appunto il rastrellamento alla deportazione di 1252 ebrei romani da parte dei tedeschi una coincidenza casuale ma che non è passata per nulla inosservata visto il tanto clamore dell'accensione contenti gli esperimenti locali di destra che per giorni hanno pubblicato sui social selfie con sfondo fontana il consigliere comunale di fratelli d'italia massimiliano ogiano sulla sua pagina facebook ha scritto la fontana dell'impero fulgide esempio architettonico monumentale di una città millenaria consegnata dalla storia alla gloria eterna altri simpatizzanti di destra invece hanno ringraziato rossi e la sua giunta per questo atto che è andato oltre all'ideologia del sidaco quello che stavo dicendo io gente di buon senso ogni tanto c'è il clamore sulla inaugurazione non è piaciuto invece ad ampi che ha chiesto all'amministrazione comunale di cambiare il nome sulla fontana affinché sia più consono con i tempi moderni rappresentativo di una città pronta all'accoglienza la cerimonia e passa quantomeno scarna affermano all'ampi di brindisi priva come era di un'esposizione storica che contattualizzasse l'opera con il periodo in cui è stata realizzata questo aspetto importante andava necessariamente spiegato senza spiegazioni il rischio che si corre è l'esaltazione di una realizzazione architettonica un retorico monumento fatto in funzione di una propaganda coloniale e guerra fondaia monarchico fascista di un impero sconfitto dalla storia dagli alleati e dalla lotta partigiana ecco toglierei l'ultima cosa perché come ho già spiegato altre volte anche l'ampi è stato condannato per crimini di guerra e quindi va considerato al pare di nazisti e fascisti se non peggio quindi non rompano i testi se non ci credete c'è 2010 è una notizia del 2010 andate a vedere ampi condannata per crimini di guerra notizia del 2010 c'è la spiegazione almeno non rompete i testi veniamo alla seconda notizia che è poco simpatica avast scoperta nuova frode che sfrutta la funzione di richiesta denaro di paypal i ricercatori avast hanno scoperto una nuova truffa online che sfruttando una delle più famose funzionalità di paypal permetterebbe ai malintenzionati di sottare denaro in modo piuttosto semplice e rapido secondo il team di ricerca l'attacco classificato come spare phishing è ideato attraverso un'abile strategia sociale che sostanzialmente riesce a utilizzare la funzione paypal richiedi denaro per consentire di ricevere un pagamento semplicemente con il clic su un polsante nella home page del proprio profilo la truffa è stata portata alla luce grazie a un utente che ha ricevuto una richiesta di denaro attraverso un'immensa ospetta inviata da paypal dopo alcune verifiche è stato confermato che il messaggio era stato inviato realmente da paypal e questo ha attirato l'interesse del team che successivamente ha eseguito alcune verifiche scoprendo così la frode l'efficacia e la semplicità almeno apparente di questa frode è facilitata dalla stessa funzionalità richiedi denaro integrata su paypal che ricordiamo non prevede che i destinatari della richiesta debbano essere utenti paypal per trasferire la somma richiedendo solo una carta di credito valida secondo il report prodotto dal team avast paypal non è l'unica ad integrare questo tipo di funzionalità segnalando che anche app come revolut e venbol offrono strumenti simili e permettono di richiedere denaro a terze persone per difendersi da questo tipo di truffa basta solo stare attenti ed accettare richieste di denaro ad accettare richieste di denaro no allora per difendersi da questo tipo di truffa basta solo stare attenti ed accettare richieste di denaro solo quando siamo certi riguardo l'identità del richiedente quindi attenzione è una notizia di un anno e passa fama magari siccome è andata in cavalleria come si suol dire uno non lo sa si trova paypal che gli va a chiedere dei dei soldi per qualche motivo anche magari valido ci casca e capisco che su paypal uno non mette tantissimi soldi però è sempre antipatico purtroppo cadi della in una truffa di quelle che ti dicevano con un euro e cinquanta ti arriva il cellulare tutti che ne parlavano bene ho detto vale che vada butto via un euro e cinquanta invece hanno clonato la la carta di credito c'era su 70 euro però avevo fottuto 70 euro dovuto anche rifare la carta nuova la banca avrebbe dovuto rimborsarmi perché erano assicurati ma alla fine non mi hanno rimborsato niente ha buttato via 70 euro anch'io sono stato fesso va beh la prossima volta sono tutte lezioni che uno impara terza notiziola il 5g l'italia blocca l'accordo tra huawei e fast web notizia del 26 ottobre 2020 non so se poi adesso l'hanno sbloccata questa opzione huawei fast web sul 5g o meno vedevo che nello sci c'è la pubblicità 5g eccetera quindi prima o poi avremo anche il 5g pare che ci sia già io per ora il mio 4g sul cellulare comunque staremo a vedere il futuro un'ipotesi ormai siamo preparati al peggio comunque andiamo a leggere questa notiziola l'italia ha bloccato l'accordo in base al quale fast web avrebbe dovuto ricevere da huawei appellacchiature per la sua rete core 5g core lo hanno riportato il 19 quindi la settimana precedente tre fonti contattate da reuters citando quanto emerso nella riunione del governo tenuta nella tarda serata di giovedì 22 ottobre la decisione rappresenterebbe il primo esercizio del potere di veto del governo nel confronto nei confronti di huawei per quanto riguarda i contratti per le rete core 5g anche team ha estromesso huawei dal 5g a luglio ma si è trattato di un provvedimento preso dall'operatore una delle fonti dichiara al riguardo il governo ha posto il veto all'operazione chiedendo a fastweb di diversificare i suoi fornitori secondo altre fonti fastweb aveva individuato in huawei l'unico fornitore per la sua rete core 5g che si ricorda è la parte centrale dell'infrastruttura 5g quella in cui vengono elaborati i dati sensibili degli utenti sia fastweb sia huawei hanno scelto di non commentare la notizia ma nel frattempo sembra rafforzarsi anche in italia il fronte contrario al colosso cinese una fonte vicina all'ufficio del primo ministro ha affermato che il governo sta valutando se il produttore cinese possa o meno avere un ruolo nella realizzazione delle reti core 5g italiane il caso di fastweb potrebbe quindi essere l'indicatore di un clima che sta cambiando in senso sfavorevole per huawei lo scorso anno il ministro per lo sviluppo economico patuanelli aveva dato segnali di apertura nonostante il paese al contrario del copa sir ora l'atteggiamento del governo italiano sembra iniziare ad essere più in linea con quello degli stati uniti e di altre nazioni europee francia gran bretagna e svezia che hanno deciso di limitare fortemente la presenza di huawei nelle proprie reti 5g per ridurre le minacce alla sicurezza nazionale reuters sottolinea fonti governative del settore affermano che roma sta di fatto adottando una linea pro usa più netta sugli accordi 5g non so se adesso il nuovo governo sarà favorevole o meno hanno altri gate da pelare soprattutto scegliere sto ben eletto presidente della repubblica che a me fanno ridere quando dicono dovremmo farlo rileggere agli italiani se lo fanno leggere agli italiani guardate la scelta è cane tra jerry cala christian de sica essio greggio gli acchetti eccetera 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 perché tenendo conto di quello che succede quando gli italiani vanno al voto può succedere veramente che mi vanno a scegliere un ex attore più che un personaggio politico di spicco o la persona autorevole e super partes quindi attenzione a quello che potrebbe succedere a far votare gli italiani il presidente della repubblica sarebbe giusto io sto con il mio partito che continua a spingere per avere un presidente della repubblica detto dagli italiani il problema è che siamo a idiotan come continua a dire da perché la battuta siamo a idiotan la fece christian de sica durante il film sapore di mare doveva essere una battuta invece era una mara verità noi siamo a idiotan un paese di idioti basta vedere come votano adesso è venuto fuori no io quando erano nati i cinque stelle ero scettico e c'erano quelli che votavano cinque stelle fa anch'io ero come te ma adesso voto i cinque stelle perché qua perché su perché giù adesso a distanza di anni io l'avevo detto attenzione che cucù 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 adesso tre anni dopo che questi sono al governo è successo tre quattro cinque anni quello che è e hanno fatto quello che hanno fatto sono non si sono che confermate quello che avevo previso già previsto io quando erano arrivato quello che temevo io letta attenzione che ma gigi ma qua ma su ma giù e adesso mi dicono gigi avevi ragione ma allora gigi non capisci un cazzo gigi sei sempre il solito sei un conservatore di merda eccetera 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 adesso non mi tolgo l'amicizia perché si vergogna quando mi vedono solo con testa bassa e pedalare perché se no li prendo per il culo o se no è gigi aveva ragione perché è questione di buon senso ragazzi il buon senso che manca a certe persone il buon senso che ogni tanto fa fare cose che i buonisti del cazzo non farebbero mai perché va contro i loro principi quindi non sono persone di buon senso perché no io quelle cose allora contento te e non vado avanti perché sennò divento cattivo e si sa non c'è cosa peggiore di un buono quando diventa cattivo e loro fanno di tutti per di tutto per farmi diventare cattivo comunque a parte gli scherzi bando alle ciance ciance alle bande vi saluto che sono andato oltre e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao